La sua vita è quasi perfetta. Era una tipo... Oh, perdi, ci ho bruciato i biscotti. Ma ha dimenticato il suo passato. Io mi chiamo Samantha. Samantha che... No, 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 scordati tutto. You're unbelievable. Che sta succedendo? Hai perso la memoria, ti sei confusa, ti sei medesimata nella tua copertura. Che storia è? Sei un'assassina che lavora per il governo degli Stati Uniti. Li voglio molti. You're unbelievable. Gina Davis. Questo non è un giocattolo. Samuel L. Jackson. E questo non è un panino col prosciutto. Per il ciclo serial thriller. Spy. Si fa tura. Sabato. Alle 21. Con Iris.